salve a tutti ragazzi eccoci qua allora come potete vedere qui abbiamo il nuovo gruppo tutti amici uniti eccolo qua anche su whatsapp allora ragazzi se volete iscrivervi vi basta solamente iscrivervi a questo pulsantino qua sotto c'è scritto entra nella chat e entrate nel nostro meraviglioso tutti amici uniti ragazzi uniamoci tutti entrate tutti vi basta solamente schiacciare questo pulsantino qui entra nella chat noi amministratori vi ricordiamo di comportarci bene comportatevi bene non diciamo parolacce non diciamo insulti non ci insultiamo nel gruppo tutti amici uniti possiamo giocare scherzare ridere sempre tenendo una massima educazione adesso lo tengo un po così lo faccio vedere sempre a tutti lo faccio presente a tutti tutti amici uniti ragazzi uniamoci tutti potete iscrivervi tutti non ci sono limiti di età l'importante ragazzi è tenere la massima educazione non mandate video sporchi perché altrimenti noi amministratori vi banniamo insomma è questo è un gruppo carino dove tutti possiamo scherzare in modo garbato possiamo potete tutti mandare i video sia che youtube che multimediali ecco qua tutti amici uniti vi ripeto per entrare basta assolutamente che pigiate questo bel pulso antinomerd dove scritto entra nella chat entrate e se volete possiamo fare conoscenza possiede potete tutti unirvi non c'è problema siamo tre amministratori e vogliamo la massima disciplina beh ragazzi io vi saluto mi raccomando ragazzi tanta gioia buoni riveduti e grazie a tutti